Emilio Cocca, centrocampista del campo di pietra, è arrivata questa sconfitta Casalinga nel recupero con il Tammaro, un buon campo di pietra nel primo tempo avete avuto l'occasione di passare in vantaggio, poi il loro avvio bruciante ha deciso un po' la partita, nel secondo tempo. Eh sì, purtroppo siamo partiti bene nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni, siamo arrivati più volte a tu per tu col portiere, purtroppo oggi la palla non voleva entrare. Nel secondo tempo loro due azioni, due golli, ci hanno buttato a terra e anche poi fisicamente siamo calati e finita purtroppo 2 a 0 per loro. Che riflesso può avere sul gruppo questa sconfitta, quindi bisogna comunque ripartire dall'impegno messo in campo perché quello non è mai mancato, ma il campionato diciamo va rimesso forse un po' in sesto perché forse le vostre ambizioni sono di vertice. Esatto, era una sfida al vertice, potevamo recuperare tre punti su tutta la classifica anche perché era fermo il campionato insomma. Sul morale un po' ci butta a terra ma già dal prossimo allenamento torneremo più carichi e più forti di prima per andarci a giocare domenica prossima. Grazie.